Parla sempre di polemica con Albert Parietti, ha fatto polemica un po' l'ultima intervista su Vanity Fair, cos'è che c'è di vero? C'è qualche contrasto con le dirigenze delle televisioni? Ha contato forse qualcosa di insuccesso con Wild West? Wild West non è stato un insuccesso perché non ha avuto il tempo di essere, lo X Factor piuttosto che potrei nominarle 20 programmi, non li nomino perché sono in onda e non sarei carina, hanno fatto uno share almeno 4-5 punti più basso di Wild West, Wild West dava fastidio perché evidentemente andava in concorrenza con qualcos'altro, si è voluto eliminare perché non si elimina una trasmissione fortemente velluta la seconda puntata che ha fatto il 15 la prima e il 9 la seconda, gli si dà un'altra chance, non si è voluta dare, quindi nessuno può attribuire a me la colpa di un programma che è andato male per una puntata. No, io non credo che ci è sempre con la dirigenza, io credo che in questo momento la televisione italiana abbia bisogno di smaltire dei tentativi che sta facendo, ma alla fine come vedi rimaniamo sempre noi della vecchia generazione. Il programma al quale è più affezionata? Tanti, Macau, La Piscina, sicuramente Festival di Sanremo, in questo momento non mi vengono in mente tutti, ma sicuramente Grimilde. Davide ti do un bacio, ciao!